L'arrivo dell'ammiraglio Fechler è salutato da un flottone di bestaglieri. 14 nazioni festeggiano il sesto anniversario della Nato. È il primo esempio, dice Fechler, di cooperazione fra 385 milioni di uomini di 12 lingue diverse. Il generale de Cessar segnala i risultati francesi. Tregua in Indocina, accordi di Londra. Fretton sottolinea la partecipazione inglese alla difesa d'Europa e Lombardi riconosce nella Nato un'organizzazione difensiva contro i nemici della pace. Organizzazione militare ma anche economica, politica e culturale.